e anche da molta serenità in quello che si fa, quindi la scelta delle cose è almeno possibile e quindi anche la scelta dei brani non è stata per niente casuale e tantomeno ci sarà tutto un viaggio con questo accompagnare il presente il secondo brano che ascolteremo è il pretudio di opera 28,15 è conosciuta anche con il titolo apocrifo della goccia d'acqua a causa del particolare effetto normatopedico dato dal continuo cristallino risuonare il ribattuto della stessa nota ed è una composizione musicale per pianocorti, scritta tra l'altro tra 1831 e 1938 questo brano ripercorre la forma del notturno sia per il carattere sia per l'articolarsi formale due sezioni contrastanti, una prima lirica e una seconda drammatica con una ripresa finale della prima durante la prima parte sentiremo un tono abbastanza semplice e dimesso dal tema lineare appena crescita, leggero ribattere della mano sinistra successivamente l'incendere si appesantisce giunto lo segnale di turbamento e questo è l'inizio della seconda parte come in un percorso avveroso dalla realtà al sogno le figure d'acchiare e vestite nella seconda parte si fanno progressivamente più sfumate perdono i contorni, sviliscono la ripetizione della nota, già caratterizzante nella prima parte diviene ora sempre più incalzante e ossessiva la musica perde direzionalità e si entra nello stato di quasi allucinazione solo la fine è venente di schiaro ed ecco che giunge la ripresa una è la ritrovata serenità per quale tuttavia ancora nella ripresa l'impressione del ricordo passato, un senso di rivedenza ardente nella corda un suono penetrante da tutto scendendo dal lato dispacendosi, lascia in tornazione a corda di note solo allora si trava l'ognanza e il riposo agognato sopraggiunge dopo il turbamento che aveva radito l'immaginazione questo secondo noi era l'idea di un presempio che si realizzava c'è della gente che all'inizio un modo senza sapere niente dove andare in preciso e quindi questa nuova rimattuta dall'idea di questo viaggio nella seconda parte invece si crea questa specie di atmosfera fino a che poi la nascita del bambino e il successivo riposentativo dei magi crea questo momento dove si placano tutte le ansie e dove nella pace si contempla il presempio il presempio però vi ricordo con il mondo 15 avevano cortesi due sabbie il presempio però vi ricordo con il presempio il presempio però vi ricordo con il presempio il presempio però vi ricordo con il presempio E' lo scorso Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.